Quello che mi tiene sveglio la notte è la consapevolezza che stiamo vivendo uno straordinario momento di trasformazione. Lo scenario distributivo sta cambiando radicalmente, basti pensare all'operazione Amazon e All Foods, influenza un consumatore che diventa ogni giorno più esigente grazie alle alternative a disposizione che gli permettono di non dover più scegliere tra gusto, nutrizione e prezzo, quando può avere tutto allo stesso tempo, ordinarlo dal proprio smartphone e averlo consegnato direttamente davanti alla porta di casa all'orario desiderato. La sofisticazione dei dati a disposizione di produttori e retailer è impressionante. Ormai si possono raggiungere gli individui con promozioni tagliate su misura, sia attraverso i negozi tradizionali che online. Allora bisogna saper adeguare costantemente a questa evoluzione sia l'offerta, con il ricorso all'innovazione di prodotto, che l'organizzazione e le competenze disponibili. Non bisogna però perdere di vista i fondamentali di prodotto e branding, che continueranno comunque a rappresentare le chiavi del successo della marca e del business.